Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars Arriviamo mille like, condividete il video, iscrivetevi al canale Se è nuovo vi lascio l'hashtag Brawl Stars con sotto i momenti per ricevere un quericino E andiamo avanti con questa nuova puntata Una puntata registrata addirittura prima del reset Perché come sapete nell'ultimo video io ho preso una delle offerte Senza aspettare ovviamente che arrivasse un'offerta importante Quindi che arrivasse un 20% che arrivasse una free Quindi visto che avevo questa sfortuna e mancano pochi giorni alla fine dell'evento del Krusty Grab A questo punto mi ero andato ad acquistare direttamente l'offerta più grande Però ovviamente il reset dell'offerta grande non doveva fare questa cosa Come vedete dalla parte destra dove ci sono le offerte che devono essere resettate oggi Dice 1 ora e 3 minuti Quindi ovviamente queste stanno tutte in lista corrette E ovviamente dovrà arrivare pure la nuova gratis di oggi Al posto di questa raddoppia XP che sinceramente non mi serviva molto Però è arrivata Questa è arrivata così Buggata presumo, penso che sia un bug Che dopo aver fatto l'acquisto dell'altra ha fatto il reset a un giorno Quindi questa a me me l'ha sbloccata ieri Ok? E mo questa aspetterà due giorni ipoteticamente Però io ovviamente le devo acquistare tutte Non ce la faccio penso in tempo se non mi arrivano offerte free a prendere tutte E voglio vedere oggi pomeriggio magari potrei fare un altro video se ce la facciamo A vedere se magari questa qua prendendo adesso cambia l'orario si resetta nello stesso momento E quindi oggi io prendo due nuove offerte grandi E sto tranquillo con le skin Anche perché vi ricordo che le skin del Krusty Krab Quindi tutte queste carine tipo Jesse Sandy Sinceramente non si potranno più trovare dopo Ok? Saranno disponibili per poco tempo E poi non si potranno più trovare quando finisce la collaborazione Ok? Andiamola a prendere immediatamente Questa me la prendo Non è ottimo come evento Perché i bling sono buonissimi Sono 3000 I crediti vanno sprecati Ricona giocatore Ok E ovviamente 5 star casuali Per 7000 Quindi 777 Se continuiamo così Almeno 3 skin di queste le prendiamo sicure Vai Prendiamocela subito Ecco la nuova skin di Jesse Sandy Attiva ora i 3000 bling E apriamoci le star drop Prima star drop Seconda star drop Per ora rare Va bene Soldini Super rara epica Epica Ah un altro bonus 500 exp Il bonus mi dovrei tenere per il nuovo coso probabilmente Era doppio Rara Niente Tristezza cosmica Altri crediti Perché giustamente ci mancavano Vado a finire a fama marziana Se continuo così con questa offerta Ovviamente come vedete L'offerta dice che è già acquistata Quindi adesso il mio dubbio è Questa adesso entrerà nel reset di oggi E quindi avrò anche oggi la nuova offerta Questo sarà da vedere Ovviamente ripeto nel pomeriggio potrei fare un altro video Potrei fare un'aggiunta A questo video che stiamo facendo adesso Ok quindi vediamo Ovviamente le altre offerte sono tutte Gnè Molto tristi Quindi ce le molliamo proprio Addie E andiamoci a fare un po' di partitine Con la nuova skin di Jesse Allora Andiamo a farci una bella A caccia di meduse Con la skin della Jesse Anche il nostro compagno ha la skinnina Quindi Partita molto a tema Che piace Ok Dobbiamo andare belli carichi A dritto Voilà Intanto Qualcuno l'ho eliminato I rimbalzi Hanno dato fastidio Ma il nostro compagno Oh Un QLS ragazzi Abbiamo un QLS in squadra Oh Pazzia Arrabbiatissimo ragazzo Eh sto per morirci io Ho messo la torretta per coprirmi E comunque ha fatto il suo dovere Di coverare un po' Oh Sette ne ha preso comunque il nostro compagno Tanta tanta roba Eccolo Ah Niente Annaggia Questo colt combatte molto ravvicinato Ha notato Non so se è perché usa La mira automatica O perché è Lui e basta Che è così Ok Ho fatto una kill Ah vabbè ho capito Non mi danno il tempo Stanno a divertire Più a fare le uccisioni Che a fare altro Comunque questi Amore di Ok Io farei una cosa del genere Palau Questo lo prendo Sicuro Vai torrettina Che spara tanto Eh Preso Con un Ah diavolo Il colt Poi c'ha il tiro curvo Quindi è Una rottura di scatole 20-0 Ammazza Arriviamoci a fare una bella 3 Sopravvivenza 3 Ragazzi Sempre con la skin Nuova della Jessie Molto carina Ok Vediamo come ce la caviamo Ovviamente la Jessie Ha l'abilità Con le bollucine Che a me non è che mi Intriga molto E non è neanche una delle migliori Sinceramente Però La dovevamo provare Perché abbiamo la skin Una carina Allora La c'è nella loro squadra 3 Un doppio mortis Veramente problematica Come cosa Vai così Oh Rimbalzino Sullo Spike Poverino Non me l'aspettavo Anzi forse non se l'aspettavo Che è ancora peggio Ok Carichiamoci noi Il Leon Si è dato Vediamo un po' Se la becco qualcuno Che poi dopo Ecco Pure quella della cura È molto potente Come abilità Il problema È che è anti-sgamo Perché in pratica Ti fa vedere Dovunque sei Oh Questo chi è Ma perché ha sparato In alto La mia Il mio personaggio Con la mira automatica Doveva sparare Verso gli avversari Invece Col cavolo Abbiamo un Colt che si è fermato Questa cosa Mi preoccupa alquanto Big Kond È fermo Ok è tornato Stiamo terzi Non si sa per quale Arcana magia O se è solo fortuna Ok È ricaricata la bolla Oh È arrivato qua È arrivato qua Cattivissimo Oh miseria Lo siamo ritrovati Sulla faccia Arriva No non è arrivata Ha fatto finta Il Mortis Ha fatto finta Eccolo Oh Unita presa In pieno Rimbalzo sul Dynamite Vai così Torrettina Appoggiata Al centro Quindi chiunque Verrà qua al centro Si viene a botte Oh Ma che fa Il nostro compagno No regà Il nostro colt era Fermo Ok Oh È esploso Sulla torretta Così Con tanta cattiveria La nostra torretta centrale Ha fatto un grande lavoro Siamo secondi Praticamente Abbiamo vinto Però Guardali Guardali Come sono simpatici Là dietro Che dovete fa Potete venire qua Se volete Vi aspettiamo Solo dei 21 Giusto per Ricordarvelo Eccolo Adieu No Ha rinato il suo compagno Non ci credo Guarda che roba Roba tattichina Adieu 25 Ah Ovviamente Il nostro club Ha già finito L'evento Stiamo a 419.000 Presi da tutti Ovviamente Qualcuno Ha shoppato E si vede I primi Chi siamo E abbiamo preso Le Spongebob Quindi direi Di andarci a fare Una partita pure Con le Spongebob E andiamo a farci Una bella Foot Brawl Con il nostro Il Spongebob Molto carino Molto strano Anche Un po' inquietante Da un punto di vista Allora Sono italiano Mi è piaciuto Bel nome Sicuramente Spiega molto Cosa sei Guarda questo Dolore Bra Ti elimino E distruggiamo Anche una parte Importante Per il nostro Guardalo 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 Lo prendo Lo prendo C'avevo il jump pronto Avevo il jump carico Proprio in quel momento Era nostro Però è arrivato Per il mortis Abbiamo qualche Problematica importante Il nostro mortis Ha fatto Una kill Molto importante Ovviamente Waa Bra Ha distrutto Un pezzettino Scoperto Questo è buono Per noi Uuu E pio eh Waa Bra Altro pezzettino Rotto E non muore il mortis Però perché non sono Molto svegliotto io Però intanto Sono sopravvissuto Oh Questo che vuoi da me Guardalo No dai Regà Ma come siete fatti A fare gol Da questa Stava da sola Stanno impazziti Questi stanno impazziti Davvero Io jumpo Su di loro Per sbaglio In pratica Non volevo Però va bene così Niente Ma i miei Dove sono Sono morti Ma sono morti Tutti e due Possibile Ma io non ci credo Come hai fatto Beh ho preso Una pigna Sulla fa E oh Mandy però Hai rotto tre quarti Pure la super carica Ce voleva E su E dai Guardala Wii Bra Bra Niente Non ho preso Nessuno Si sono sollevati Tutti Con grande Velocità Niente La Mandy Ci sta devastando Ma proprio male male Tira una super a botta Ok Vediamo un po' Se riusciamo a recuperare Sta partita Sembrava tanto carina Invece Bra Ovviamente Ok Questa la Vado a eliminare Vai Fai i gol Per favore Grazie Ottimo Uno pari Ce la possiamo ancora fare E poi non ho ancora utilizzato Un gadget Non ho ancora utilizzato Un gadget E Guardali Guardali Cattivi Molto cattivi Tu hai otto tre quarti Lo dico Oh ok È morto A posto Mi piace che la Mandy Si ferma per cercare di Avere il tiro lontano Eh L'ho provato Regà Non è che mi posso Fare magie Ok Mi sono un attimo caricato Guardiamo un po' Presa No Sì Portata a casa E niente ragazzi Noi abbiamo preso Questa nuova offerta Con un giorno di anticipo Quindi non so Se farò una clip Che vi aggiungerò Adesso Penso Con l'altra offerta Che appare Per vedere se effettivamente Questa cosa ha fatto Questo bug strano Vedremo Questa era la puntata di oggi Per adesso Arriviamo a 1000 like Condividete il video Scrivete al canale Se sei nuovi Lasciate hashtag Brawl Stars Questa sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video Scrivete al canale